Non è la prima volta che mi capita un personaggio così complesso. Massimo era un'icona in Italia. Penso sia stata una buona idea decidere di non utilizzare un attore italiano perché ci sarebbero stati un sacco di problemi culturali, di gestualità, mentre una persona come me, mezzo italiano di origine cresciuto in Irlanda, può tirare fuori qualcosa di diverso, di intrigante. Così l'attore irlandese John Lynch, protagonista di decine di film di successo mondiale, racconta del film che ha girato lo scorso anno e che uscirà prossimamente nel quale interpreta Massimo Troisi. Il film si intitola Da domani mi alzo tardi, è tratto dall'omonimo libro di Anna Pavignano e alla regia del nipote di Troisi Stefano Veneruso con le musiche inedite di Pino Daniele. Lynch, che è originario di Trivento, paese del quale è anche cittadino onorario e dove torna spesso, si è raccontato in un'intervista alla web radio del paese, Radio Europa 1. Non sapevo molto di Massimo, avevo visto solo il postino, ha detto ancora a proposito del film, poi ho studiato la sua vita, ho saputo dei suoi problemi di salute e la sua storia mi ha emozionato. L'idea centrale del film è che io faccia Massimo come se lui non fosse mai morto, come se fosse tornato dopo 25 anni. Quindi non interpreto il Troisi giovane, faccio la mia versione inglese di un Massimo alla mia età attuale. Nell'intervista Lynch ha anche ricordato il suo grande successo Slide Indoors, Non faccio spesso commedie, quella fu la prima volta per me di una commedia romantica, è stato un film molto importante. L'attore, che ha molti progetti in cantiere tra nuovi film e serie tv, ha poi parlato del suo legame con Trivento, ha ricordato sua madre Rosina Pavone che da Trivento partì per trasferirsi nel nord Europa e ha confessato che a lui piacerebbe fare un film in paese, dove ha tra l'altro già girato un cortometraggio con i giovani del posto qualche estate fa. Certo mi piacerebbe farlo, ha detto alla radio, bisognerebbe solo trovare il copione giusto.